Momenti di pura paura che non vorremmo mai vedere e commentare. Nel match atletico Ascoli-Avezzano, in uno scontro di gioco, Esposito e Senese rimangono a terra e dopo lunghi soccorsi vengono portati in ospedale dopo l'arrivo di una seconda ambulanza specializzata in rianimazione. La gara verrà recuperata dal 27esimo minuto sul punteggio di 3-0 a favore dei locali. Dopo il calcio d'inizio, i padroni di casa mettono subito la freccia del sorpasso. Nonni prende la mira e dà la distanza con un euro-goal, firma lo splendido 1-0. L'undici di Mister Secardini vola al ventesimo arcobaleno di Clerici che pesca scimia. L'ex San Benedettese ringrazia e confeziona il 2-0. Neanche il tempo di esultare che il tris è servito. Batti e ribatti in area, Gerlero ne approfitta e chiude virtualmente i giochi. Al minuto 27, come detto, il momento di enorme paura. Esposito in uscita, si scontra con Senese. Dopo minuti di puro panico, con l'intervento di una seconda ambulanza con unità di rianimazione, si inizia a temere il peggio, con i due giocatori che però escono coscienti tra gli applausi del pubblico e portati nel vicino ospedale. Sarà dunque il giudice sportivo a decidere la data, l'ora e il minuto del recupero, con la probabile prosecuzione dell'incontro dal minuto 27 con il punteggio di 3-0 a favore dei marchigiani. Gli accertamenti del caso nel vicino ospedale di Monticelli, al momento di questa registrazione, ovvero alle ore 18, hanno per fortuna escluso il peggio. Le TAC non hanno evidenziato in ambedue i giocatori emorragie ed ematomi, dando un quadro clinico al momento sotto controllo. E forse la notizia più bella è auspicata da tutti sin dal primo momento.